ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi secondo video per quanto riguarda l'allestimento e il riordinamento del mio piccolo laboratorio si avevo detto che stavo stampando alcune cose con la stampante 3d sidewinder x2 dell'artillery sto continuando a stampare ma ancora non vedete il laboratorio ordinato perché queste stampe richiedono diverse ore quindi è un processo lungo che mi richiederà di stampare diversi oggetti diversi supporti e questo però mi darà la possibilità di mantenere tutto ordinato perché come vi ho detto un'altra volta guardate un po tutto diciamo in guardabile un po tutto disordinato tante minuterie tante cose messe a casaccio qualcosa rimarrà ovviamente nelle barre magnetiche ma tanto altro andrà ordinato per esempio quello che vedete adesso sul piano di stampa di queste artilleri è un supporto sono dei supporti per delle bombolette spray e queste le ho stampate insieme a tante altre cose con questa stampante oggi non voglio farvi vedere tante stampe voglio parlarvi di quello che sto realizzando di come voglio organizzare il mio laboratorio e dirvi le mie impressioni perché questa stampante intenzione di fare tanti video ci sono tante cose che mi piacciono qualcosa con l'utilizzo di svariate ore mi sono reso conto che effettivamente non è proprio il massimo va bene una stampante comunque che consiglio che funziona perfettamente però qualcosina con l'utilizzo prolungato di diverse ore insomma è venuto a quindi vi dirò un po tutto nonostante tutto comunque la stampante che mi piace allora questi supporti stampati in pl a considerate che ho stampato solo pl a ho fatto una prova con il tpu essendo una dare drive riesce a stamparlo perfettamente ma guardate che meraviglia che qualità di stampa con quale perfezione stampato questi supporti e come funzionano allora sono composti da una base quindi questa parte in plastica che sostiene le bombolette e questa parte che è leggermente flessibile che mi permette di poggiare in questo modo spingere e avere la possibilità di sistemare tutta la parete con le bombolette che mia moglie dice che io sia disordinato ma metterò un inquadratura di come tengo le mie bombolette secondo me sono abbastanza ordinato allora guardiamo quindi 1 e 2 questo è semplicemente solo per farvi rendere conto di come verrà però poi ci sarà tutta la parete con un pannello particolare un pannello fonoassorbente con delle bacchette degli stelli in legno che si prestano perfettamente per questo tipo di lavoro quindi poi vedrete tutto il laboratorio finalmente ordinato e finalmente con alcune modifiche perché questa parte che non avete mai visto ragazzi non avete mai vista perché non si può guardare voglio farvi vedere anche una ripresa mentre la stampante sta stampando in cui si vedono effettivamente i pezzi sul piano di stampa non ho stampato solo questo ho stampato diversi oggetti per esempio dai portachiavi percebi torrisi ci siamo incontrati anzi lo saluto abbiamo fatto pure uno scherzo che trovate sul mio instagram sul suo instagram anche su instagram di sicilia makers quindi da dare un'occhiata vi lascio il link perché è divertente comunque non ho stampato solo questo stampato le sue portachievo stampato dei pupini per mia figlia qualcosa di harry potter qualcosa per degli amici ho continuato a stampare tante altre cose che però non ho ripreso perché mi interessa darvi le mie impressioni ormai la utilizzo da circommese quindi so parlarvi di questa stampante allora cosa di buono praticamente tutto perché vi permette di inserire il file nella sd oppure collegarla allo slicer e vi promette di ottenere delle stampe eccellenti adatta anche a chi non è esperto di stampanti 3d perché è facile da utilizzare non richiede praticamente alcun tipo di montaggio di regolazione semplicemente come ho detto nel primo video basta unire l'asse z al resto quindi alla base si accende e si utilizza ci sono delle regolazioni eventualmente da fare per quanto riguarda le ruote centri che io invece le trovate perfettamente già tarate quindi non è stato necessario fare alcun tipo di intervento l'unico intervento in realtà per essere sincero era sulla cinghia dell'asse y che non era tarata perfettamente infatti su baby group fatto vedere la volta precedente che già mi figlia ha sequestrato ci sono alcune linee perché dato che l'asse non è perfettamente tirata la cinghia non era tirata aveva dei piccoli movimenti quindi non è venuto proprio al cento per cento adesso invece il problema è stato risolto quindi come vedete tutto stampato a meraviglia qualità elevata guardate qua si vedono con i riflessi che evidenzia tantissimo ma si vede che è stampato molto molto bene 12 eccetera ovviamente alla stampante non è priva di difetti se fossi così possiamo chiamarli per esempio il piatto di stampa si surriscalda bene si surriscalda quasi in modo omogeneo provato a fare questa stampa interessante tutto il piano di stampa e tutti i pezzi che coprivano perfettamente più di stampa sono stati stampati perfettamente però inquadrandolo con la termocamera e si vede anche nel primo video si vedono delle piccole differenze nelle parti basse dove ci sono le viti che permettono di regolare piatto di stampa in quel punto la temperatura non è perfetta e anche per quanto riguarda la regolazione della temperatura su questo esemplare non so se sia una caratteristica comune a tutti ebbè impostando 60 gradi se ne va a 68 quasi 70 gradi quindi impostate eventualmente 5 6 gradi in meno in modo da avere la temperatura corretta super giù di quella che volete voi dipende però io non so dirvi se così su tutte su questo esemplare è in questo modo anche il touchscreen del display può succedere che non sia non risponda proprio al cento per cento praticamente la cornicetta del display su alcuni esemplari basta con un un coltellino cacciavite spostare indietro questa cornicetta vi farò comunque delle inquadrature dettagliate il problema si risolve ed effettivamente avendo fatto questa sistemazione adesso il display funziona perfettamente per quanto riguarda il livellamento allora va bene veloce funziona bene segue perfettamente eventuali dislivelli non mi sono interessato di fare la prova a vedere se il piatto di stampa è allineato oppure no e voglio farlo adesso con voi anche se voi non lo vedrete perfettamente ma vi dirò io eventualmente se leggermente avvallato oppure no non l'ho fatto perché dato che il sistema di auto livellamento funziona così bene ho ritenuto inopportuno farlo allora nella parte centrale leggermente avvallato quasi nemmeno si nota sì nella parte centrale leggermente a rientrare e questo conferma del fatto che il suo sistema di auto livellamento funziona bene non va ad interferire assolutamente con le stampe tornando a parlare del piatto di stampa allora da una gran bella aderenza mi sono reso conto stampando anche pezzi in verticale quindi con il rischio che potessero staccarsi che effettivamente l'aderenza è eccezionale l'unico neo è che il piatto di stampa è fisso quindi quando dovete staccarlo dovete andare a colpire in alcuni punti in base a quanto avete fatto aderire quanto siete vicini con il nodo è necessario con una spatolina fare un pochettino di forza oppure picchiettare leggermente il piatto di stampa comunque robusto e resistente nonostante colpi non ha riporto alcun tipo di segno di maltrattamento se non nei segni come avevo detto anche la volta precedente del filamento utilizzato che effettivamente aderisce troppo e quindi lascia i segni sicuramente sarebbe stato meglio visto che ormai siamo nel 2023 visto che piatto in pay flessibile sempre più utilizzato adeguarsi e sinceramente mettere questo tipo di piatto di stampa comunque sia è una scelta commerciale però ha funzionato bene quindi potrebbe essere semplicemente un capriccio non lo metto tra i difetti ma fra le cose che avrebbero potuto comunque migliorare un'altra cosa che non mi fa impazzire ma che comunque funziona bene è il sensore di filamento messo qua in questo punto però comunque sia ripeto sono solo capricci per il resto come stampante ha funzionato bene è una stampante che mi ha dato delle gran belle soddisfazioni non ci sono delle critiche particolari da fare anzi hanno migliorato per esempio rispetto alla genius che è la sorella più piccola però questa è stata migliorata per tantissime cose componenti in metallo dove lm c'erano in plastica e poi come stampante silenziosa molto silenziosa si sentono appena gli assi mentre si muovono perché comunque sono dei componenti meccanici in movimento non possono essere totalmente silenziosi ma stampante di per sé è veramente tra le più silenziose che io abbia utilizzato componenti fatti bene robusta secondo me valida era giusto fare questo altro video per farvi conoscere ancora meglio le mie impressioni su questo prodotto da dove lo avevo promesso però per quanto mi riguarda con l'esperienza che sto avendo io mi sento di consigliarla perché personalmente non ho notato assolutamente dei difetti rilevanti ho notato qualcosa che avrei voluto migliorato è qualcosa in effetti rispetto al modello precedente l'hanno fatta per esempio questo stop questo fermetto per poter bloccare i flat nei modelli precedenti tenevano a pendere in questo modo rimangono fissi rimangono verso l'alto e quindi non si muovono e non c'è questo problema di potersi danneggiare anche il reggibobbina più facile da montare mentre prima c'era una barra della traversava adesso basta semplicemente avvitare queste parti e si montano in tre minuti due minuti prima invece richiedeva dieci minuti e non era proprio semplicissimo anche col peso della bobina non ho notato oscillazioni della 6 z però se ci fossero state delle bacchette nella parte posteriore a sorreggere il castello sarebbe stato ancora meglio ma non tutte le stampanti lo hanno quella diciamo un accessorio in più che hanno in pochissima e soprattutto quando si raggiungono superano i 50 centimetri di altezza in questo caso rientra nello standard quindi come stampante per me è fatta bene finora come voto da 1 a 10 gli do un 8 e mezzo pieno perché sono più che soddisfatto e quindi una stampante che vi consiglio ora però guardiamo bene queste cose che ho stampato e guardiamo da vicino come inserisco e disinserisco le bombolette con questo sistema con la parte superiore semi flessibile e allora guardiamo quindi per bene questi pezzi che ho stampato come vedete interessano tutto il piatto di stampa e ancora quattro pezzi sono qua da questa parte stampati perfettamente quindi anche se la temperatura non è proprio omogenea non è presente assolutamente questi sono i segni che rimangono con il filamento purtroppo a questa caratteristica ma guardate la qualità dei pezzi stampati che a me piacciono davvero tanto perché sono venuti molto molto bene sia i pezzi che si interessano di trattenere il pezzo che i pezzi che si interessano di fare da base e nonostante abbia interessato tutto il piatto di stampa quindi ne abbia stampati tanti contemporaneamente si è formato pochissimo string guardate sono solo appena dei mini capellini che si rimuovono passando il dito in questo modo quindi nessun problema per quanto riguarda la stampa riusciti perfettamente nessun effetto zampa di elefante quindi promosso al 100 per cento per quanto riguarda quindi questo risultato guardiamo invece come funziona questo sistema allora abbiamo questi due braccetti che trattengono la bomboletta come vedete si inserisce in questo modo basta semplicemente spingere e quindi verranno trattenuti ho la possibilità di inserirli nella mia parete tenendo tutto perfettamente ordinato e in questo modo quindi la possibilità di posizionare prendere togliere quando mi interessa le varie bombolette senza impiegare occupare troppo spazio all'interno del mio laboratorio e avendo la sicurezza che le stesse rimangono comunque in posizione si possono sia sfilare volendo oppure come è normale che sia progettate per essere spinte e quindi incastrarsi immaginatevi voi mezza parete con tutte le bombolette con l'etichetta rivolta verso di voi suddivise per categoria eventualmente per colore in base a quello che dobbiamo utilizzare quindi che sono bombette colore eccetera e abbiamo la possibilità di ordinare tutto il laboratorio il garage eccetera con l'aiuto della stampa 3d e quindi ragazzi con quest'altro episodio su come riccardo sta cercando di sistemare il proprio laboratorio renderlo più ordinato grazie alla stampa 3d e quindi anche il secondo video che riguarda la artiglia di insomma un aggiornamento diciamo su come si evolvono le cose io vi saluto vi lascerò il link della stampante se volete comprarla sia sul sito del venditore del venditore eventualmente anche se trovo qualche link o qualche codice di sconto lo inserirò pure nel primo commento è nella descrizione se vi è piaciuta questa idea per sistemare le bombolette fatemelo sapere se avete altre idee oppure conoscete altri link perché questo file non l'ho creato ma l'ho scaricato direttamente da thing verse e se vi interessa ve lo lascerò giù il primo commento nella descrizione così potete scaricarlo anche voi sistemarvi il laboratorio secondo me è comodissimo anche in un'officina meccanica se qualcuno utilizza per esempio vd 40 svito eccetera può sistemarsi le proprie bombolette nei pressi dove è necessario utilizzarle e averle sempre ordinate senza il rischio che possono cadere giù perché in garage o le bombolette allineate ma quando ne prendo una ne faccio cadere un'altra e se si fa l'effetto addomino non ve lo dico va bene ragazzi vi saluto vi ringrazio vi invito ad iscrivervi nel mio canale youtube cliccate qua sul pollice non mi trovo farvi capire che il video vi è piaciuto anche se con l'inquadratura storta ma deve rientrarci anche la stampante mettete anche il segno di spunta sulla campanella per attivare notifiche e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto